Ben ritrovati in Affinity Photo. Oggi voglio parlarvi di canali. I canali in Affinity sono più complessi nella loro gestione rispetto ad esempio i canali di Photoshop. Qui voi vedete che abbiamo canali compositi, poi abbiamo il canale sfondo, poi abbiamo selezione pixel, poi abbiamo delle matite che permettono di modificare, dunque abbiamo diverse possibilità di intervenire tramite i canali all'immagine. Andiamo a vedere oggi come fare questo e in cosa consistono i canali compositi rispetto ad esempio ai canali sfondo e come gestire le selezioni tramite canali. Allora intanto andiamo a vedere qui il canale rosso. Tra l'altro se il pannello dei canali non fosse aperto lo trovate sotto visualizza studio canali. Allora se io clicco qui sul mio composito rosso, composito vuol dire che sono tutti i canali, in questo caso ho solo il canale sfondo. Clicco, allora questi sono tutti i pixel rossi presenti nella mia immagine. Poi clicco sul verde, vedete che è diverso, qui nella mela ho poco verde presente, tant'è vero che qui soprattutto in questa zona, qui andiamo a vedere, qui c'è poco niente verde, in effetti qui è la zona più scura dell'immagine, insieme a qui. Vuol dire che là dove c'è presenza di verde, ma non solo di verde puro, di verde dove ci sono magari anche presenza di pixel di rosso e di blu, ma comunque c'è una forte presenza di verde, là è più chiaro. Andiamo a vedere, vedete questa zona qui, qui c'è verde e effettivamente questa è una zona più chiara. Andiamo a vedere il blu, il canale blu. Vedete il canale blu è presente ovunque un po', un po' qui nel rosso della mela, un po' nello sfondo e dunque è abbastanza in questo caso equilibrato. Poi cliccando qui in alto sulla rotellina, attivo di nuovo tutti i canali, visualizzo di nuovo tutti i canali di colore. Io posso creare una selezione, ad esempio prendo il canale rosso e col tasto destro del mouse clicco e guardate posso caricare una selezione oppure posso creare un canale alfa. Se carico una selezione, questa è la selezione del mio canale rosso e qui vedete poi qui sotto in selezione pixel ho questa carica e questa carica del canale rosso. Dunque una volta che abbiamo creato una selezione ho questa carica di selezione e adesso posso ad esempio effettuare una modifica. Adesso utilizzo ad esempio una curva, alzo o creiamo una curva di contrasto giusto per vedere e voi vedete adesso deseleziono questa è la mia maschera. La mia maschera è il canale rosso. Adesso ho cliccato alto pure opzione per visualizzare il canale. Adesso lo elimino. Oppure io posso cliccare tasto destro del mouse e creare un canale di riserva. Questo è un canale di riserva che ad esempio per coloro che vengono da Photoshop sarebbe un canale alfa. Allora tasto destro del mouse, rinomino e lo chiamo rosso perché questo è il mio canale rosso. Dunque se clicco sopra questo è il mio canale rosso. Adesso clicco sul livello per tornare ad attivare tutti i livelli. Se io invece creo una selezione, provate qui con il mio strumento di selezione. Vedete creo qui questa selezione di questa mela. Ok facciamo bene la selezione e guardate qui di nuovo ho selezione pixel. Dunque ogni selezione nei canali viene indicata come selezione pixel. Anche qui tasto destro del mouse posso ad esempio creare una canale di riserva che rinomino e lo chiamo mela. Voi vedete che finché è attiva la selezione è attiva ancora selezione pixel e questo mi consente ad esempio a invertire la selezione. A questo punto creo un nuovo canale di riserva e lo rinomino e lo chiamo sfondo mela. Ok questo è il mio sfondo mela. E poi guardate con questo, adesso lo inverto di nuovo che ho la mela, posso creare anche una maschera. Vedete questa è una maschera veloce e infatti tasto destro del mouse posso attivare o disattivare una maschera veloce per vedere la selezione. Con questa selezione attiva ctrl o command j duplico il mio livello e lo chiamiamo mela duplicata. Ok adesso le seleziono. Osservate adesso qui nei canali. Voi vedete che i canali compositi sono tutti i due i canali. Se invece clicco sul canale mela duplicata vedete questo canale qui riguarda solo il canale mela duplicata. Infatti si chiama così e se adesso vado a creare ad esempio un crea un livello scala di grigio un livello maschera un canale di riserva lo creo ad esempio solo del canale mela. Andiamo a vedere questo è il mio canale di riserva mela. Ok con lo sfondo nero perché qui c'è la trasparenza e questo è il canale di riserva mela. Adesso lo elimino perché in realtà non mi serve. E dunque se voglio lavorare su su uno singolo livello uso questi canali qui che hanno il nome di quel livello e dove posso creare una scala di grigio creare un livello maschera creare un canale di riserva oppure invertire cancellare e riempire. Queste sono le funzionalità di questo di questo livello qui. Poi ecco un'altra cosa che voglio farvi notare è che abbiamo visto prima che abbiamo qui nei canali composito la possibilità di visualizzare vedete solo un livello se poi attivo anche qui il composito alfa lo vedo in colore però io magari attivo solo il canale rosso e la matita rossa. Posso anche visualizzare tutti tre i canali però attivo solo la matita rossa e dunque solo il canale rosso è modificabile. Cosa vuol dire che è modificabile? Vuol dire che io posso dipingere in questo canale rosso o col colore nero o col colore bianco. Se dipingo col col colore bianco dipingo in col col colore rosso utilizzando il nero invece dipingo col col colore opposto che sarebbe il ciano. Prendo naturalmente lo strumento pennello ok e dunque mi trovo il canale composito rosso con la matitina solo del canale composito rosso attivato colore bianco primo piano e passo sopra e guardate cosa succede dipingo in rosso qui adesso vedete che ho un'opacità e un flusso molto basso se fosse elevato adesso torno indietro porto magari il flusso a 100 e l'opacità a 100 ok e ridipingò voi vedete che la mela diventa assolutamente rossa torno indietro adesso riprendo il pennello abbasso l'opacità magari a un 20 e livello sfondo attivato vedete qui ho attivato tutti tre i livelli come visualizzazione ma solo il pennello di modifica è solo attivato sul canale rosso e adesso guardate dipingo col rosso adesso magari creo una selezione del canale sfondo mela ok creo una carico selezione torno in sfondo duplicò questo livello qui adesso le seleziono e questa volta magari dipingo col canale blu vedete disattivo le due matite che se dipingo col colore bianco lo sfondo vedete prende una tonalità blu perché aggiungo il colore blu torno indietro se prendo il colore nero dipingo col col colore composito con l'opposto e dunque col giallo guardate riesco a far diventare tutto più giallo questo caso è troppo intenso allora abbasso ancora l'opacità e comincio a inserire qui il giallo e dunque vedete posso lavorare sui canali utilizzando i canali di composito ad esempio potrei utilizzare il canale verde composito ok visualizzo tutti i tre livelli ma attivo solo il modifica il penino modificabile del canale verde col nero dunque inverto il colore verde e diventerà più magenta e guardate inserisco qui il colore magenta ok oppure col bianco e lavoro sul blu e aggiungo anche un po di blu vedete questo questi sono i trucchetti che possiamo fare utilizzando i canali di colore e tante volte in base all'opacità e al flusso riusciamo ad esempio evidenziare fonti di luce molto intense che diventa magari volete intensificare una luce rossa molto forte in quel caso aumentate l'opacità aumentate flusso passate solo con la modifica del canale rosso sulla zona rossa e vedete che avete un colore assolutamente intenso ad esempio adesso aumento qui l'opacità colore bianco però naturalmente devo selezionare la mela e guardate la mia mela diventa assolutamente una mela tipo gala molto più chiara se poi aggiungo un pochettino di magenta compositi verdi però per il magento bisogno del nero e guardate la mia mela diventa più magenta e mento meno rosso un po' più magenta ecco come avete visto tutto questo è fattibile utilizzando le matite dei canali compositi adesso clicco qui per tornare indietro visualizzare tutti i livelli questo adesso qui lo abbassiamo un po' perché veramente molto intenso e possiamo cambiare metodo di diffusione ad esempio se io adesso volessi creare un livello una curva ok però vorrei lavorare solo sul sul canale sulla mela oppure solo sullo sfondo clicco col tasto destro del mouse sullo sfondo e carico in regolazione curve alfa così adesso la mia curva ha già lo sfondo e adesso posso naturalmente lavorare gestirmi lo sfondo vedete e so che sto lavorando solo sullo sfondo ok se adesso vado a vedere la mia curva vedete cliccando col tasto alto per opzione vedo che è una curva che lavoro solo sullo sfondo oppure potrei scegliere di cliccare tasto destro del mouse carica selezione in pixel e con la selezione lavorare ad esempio sul canale rosso e una volta che creo anche qui una curva vedete clicco e so che qui ho lavorato solo sul canale rosso e dunque la modifica della curva si basa sul mio canale rosso ok ecco un'ultima cosa che trovo che sia molto interessante è il fatto che posso creare selezioni e con queste selezioni aggiungere altre selezioni sottrarre o interseccare ad esempio se io creo tasto destro del mouse carica selezione in pixel adesso ho caricato il canale rosso e da questa selezione voglio ad esempio sottrarre la parte della selezione della mela voi vedete che adesso ho il canale rosso e a parte la mela sottraendo la mela oppure di seleziono riprendo la selezione del carica selezione del canale rosso e qui voglio aggiungere anche la selezione del canale blu posso aggiungere la selezione del canale blu a questo punto guardate ho qui questa selezione pixel che adesso salvo come crea come canale alfa questa è la selezione composita del canale rosso e blu ok in ugual modo io potrei ad esempio attorno ad attivare i canali caricare una selezione e sottrarre lo sfondo a questo punto guardate ho il canale rosso solo della mela e dunque salvo e questo diventa canale rosso oppure mettiamo rosso mela ok e dunque adesso di selezione vado a vedere adesso questo è il solo il canale della mela e solo il canale rosso della mela e dunque avete visto anche questo è assolutamente interessante perché io posso creare selezioni aggiungere sottrare e intersecare tra le varie selezioni creando nuovi canali e dunque nuove selezioni